Le notizie che mi giungono dall'ASL sono confortanti per quanto riguarda gli esiti dei tamponi relativi alle catene di contatto nella maggioranza degli istituti coinvolti negli ultimi casi di positività al Covid-19. A comunicarlo attraverso una nota stampa è il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Non risulta ancora risolta del tutto invece la questione relativa alla scuola media Vairo di Via Moro dove numerosi docenti sono in quarantena in via precauzionale in attesa del risultato del tampone. Questo stato di cose porta una difficoltà oggettiva per la scuola nel poter garantire le lezioni in presenza. Da qui la scelta d'accordo con il dirigente scolastico di sospendere le attività didattiche in presenza fino al prossimo 15 febbraio, scelta che mira a garantire un rientro in sicurezza. Le attività didattiche intanto proseguiranno in dad. Nelle altre scuole si potrà tornare in classe.